Musica Noi per Sana quest'anno avremo un'offerta nei nostri punti di ristorazione e nei servizi di catering per gli espositori un'offerta completamente plastic free, questo significa che tutte le posate, stoviglie, le bulbe, le insalate saranno completamente materiali biodegradabili, tovaglioli naturalmente, carta riciclata e poi abbiamo anche una novità per quanto riguarda il beverage, nel senso che ci sarà la possibilità di comprare qui abbiamo dato il bando alle bottigliette d'acqua, quindi mai più bottigliette d'acqua si utilizzeranno delle ricariche, quindi i visiatori potranno acquistare delle ricariche di bevande acqua anche altre bevande aromatizzate e potranno anche acquistare una borraccia di prezzo vantaggioso con 10 euro e tre ricariche una borraccia come questa che potranno acquistare e utilizzare è un investimento molto importante, questo bisogna dirlo perché comunque passare al plastic free significa comunque trovare fornitori adatti, trovare materie prime e trovare comunque anche le soluzioni organizzative più adatte per venire incontro a questa esigenza. È importante esserci, è importante anche sottolineare che si tratta di un progetto mirato, specifico, fatto in occasione di questo evento per SANA e per la Fiera di Bologna e che in prospettiva ci permetterà comunque anche di fare quella giusta esperienza che ci permetterà poi dopo di migliorare e ampliare i nostri progetti in tal senso.